abbiamo visto gli aspetti più belli più puliti della capraia del mare le sue vestigia consideriamo che è stata una colonna venale quindi per tanti anni non abitata da diciamo dal turismo e però poi ora che c'è turismo guardiamo un po cos'è successo eccolo qua questo è il turismo di massa questo è il mare di questo momento all'attracco questo sta portando e ha portato il turismo questa invece molly molly